Le applicazioni biotecnologiche in campo medico non possono mai essere utilizzate in modo lesivo della dignità umana e nemmeno devono essere guidate unicamente da scopi industriali e commerciali. Incontrando in Vaticano i membri del Comitato Nazionale per la Bioetica, Papa Francesco ha ribadito la fondamentale importanza per l'integrità dell'essere umano e la tutela della salute dal concepimento fino alla morte naturale, considerando la persona nella sua singolarità sempre come fine e mai semplicemente come mezzo. In un contesto segnato dal relativismo e poco fiducioso nelle capacità della ragione umana è essenziale non perdere di vista la dignità dell'essere umano anche se il ritmo accelerato degli sviluppi delle scienze e delle tecnologie biologiche e mediche rischiano di smarrire ogni riferimento che non sia l'utilità e il profitto. Ribadendo che la Chiesa non rivendica alcuno spazio privilegiato in questo campo ma diffondendo il Vangelo promuove la ricerca del vero, del bene e del bello nelle complesse questioni umane ed etiche, il Pontefice ha approfondito tre ambiti, il degrado ambientale, il confronto internazionale e l'attenzione ai soggetti più deboli e svantaggiati che stentano a far sentire la loro voce oppure non possono ancora o non possono più farla sentire. Il tema della disabilità e dell'emarginazione dei soggetti vulnerabili in una società protesta alla competizione, alla accelerazione del progresso è la sfida di contrastare la cultura dello scarto che ha tante espressioni oggi, tra cui vi è il trattare gli embrioni umani come materiale scartabile e così anche le persone malate e anziane che si avvicinano alla morte. Grazie. 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 Grazie.